227 casi chain city con contagi e ricoveri in crescita. La diffusione del virus West Nile in Veneto preoccupa, tanto che la Regione ha deciso di partire con un piano straordinario da un milione di euro per una campagna di disinfestazione che verrà effettuata nei primi dieci giorni di settembre nei comuni maggiormente colpiti. Noi facciamo due azioni, l'azione larvicida e l'azione insetticida, cioè con questo milione di euro attiviamo tutta una serie di trattamenti, ma anche dare indicazioni ai cittadini, cioè un controllo responsabile del territorio non prescinda dalla collaborazione con i cittadini. Fondamentale non lasciare in giardini e balconi ristagni d'acqua, utilizzare repellenti ed abiti coprenti e chiari se si sta all'aperto o nelle ore dal tramonto al primo mattino. La zanzara che ti punge e ti inocula il virus è un problema assolutamente importante. Avete voi dato la notizia qualche giorno fa del fatto che abbiamo dei reparti che ormai erano più ricoverati di West Nile che di Covid. Le persone che finiscono in terapia intensiva molto spesso sono persone con comorbidità, che hanno alte patologie pregresse e persone magari anziani. Parallelamente verrà incrementata anche la potenzialità diagnostica delle microbiologie per avere una diagnosi tempestiva delle infezioni da West Nile. Altra questione al centro della conferenza stampa del presidente Zaia, quella dell'energia con i rincari esorbitanti che sono fonte di grande preoccupazione. Noi stiamo affrontando una fase autunale e invernale che diventerà pesantissima, pesantissima per la disponibilità di fonte energetica ma pesantissima ancora di più per i bilanci familiari. Il costo dell'energia che è quadruplicata e sulla quale è fondamentale che ci sia un intervento repentino. E se il nostro paese non è autonomo dal punto di vista energetico, non lo è nemmeno per quello alimentare. Significa che se chiudessero i confini e non ci fosse più l'ingresso di derrate alimentari, per un chissà che guaio internazionale che potrebbe accadere, noi ci ritroveremo nella difficoltà di poter sfarmare tutti i cittadini. Anche questo è un tema. Io continuo a dirlo, l'ho anche scritto in due libri. Cioè il tema dell'autonomia alimentare vale quanto quello dell'autonomia energetica. E quindi dobbiamo abbandonare i set aside in posti d'Europa, abbandonare tutto quello che è non coltivazione e tornare a coltivare i campi, investire nell'agricoltura in maniera tale che ci siano derrate alimentari, ci sia cibo.